Guida a fischare la calcio di rigore a favore della Sassuolo, Domenico Berardi contro Federico Marchetti, fa Berardi il gol, il gol, il gol, il primo in stagione per Domenico Berardi che si sblocca da un dischetto, non aveva ancora segnato in questo campionato il lattamento della Sassuolo, perfezza la sua esecuzione quasi sotto l'incrocio dei pali con Marchetti che indovina l'angolo giusto ma non arriva solo a pallone, questo il contatto intanto